Per Aristotele la felicità consiste nell'esercizio della funzione propria dell'uomo e la funzione propria dell'uomo è la ragione. Quindi l'uomo perfettamente felice sarà colui che realizzerà pienamente la sua funzione specifica, cioè che si dedicherà senza ostacoli alla ricerca filosofico-scientifica, è il famoso uomo teoretico che si dedica alla contemplazione dell'essere, allo studio della realtà, privo di tutte quelle preoccupazioni dei comuni mortali che devono sbarcare il lunario ogni giorno, evidentemente l'uomo teoretico ha un patrimonio che gli consente di dedicarsi pienamente alla ricerca scientifica, ma egli ha anche desideri moderati, cioè non è ambizioso, non desidera eccessivamente i piaceri legati al corpo e trova dunque la piena realizzazione di sé nell'esercizio dell'attività più propria dell'uomo, quindi il pensiero, il nus, la ragione. La felicità perfetta quindi è esercizio pieno, senza ostacoli, della ragione umana per Aristotele. Naturalmente solo pochi potranno raggiungere la felicità perfetta, questo risultato perché solo pochi individui sono in grado di esercitare con rigore, con precisione, con entusiasmo, diciamo così, il pensiero e perché solo pochi sono in grado di esercitare in maniera ottimale il pensiero perché la maggior parte degli uomini vada ad altro, perché la maggior parte degli uomini ha altri obiettivi, potremmo dire noi con linguaggio più semplice, e cioè la maggior parte degli uomini vuole godere di altri piaceri che non siano quelli del puro pensiero, del puro esercizio, della facoltà più alta dell'uomo, con la stessa facoltà che lo distingue dalle piante, che lo distingue dagli altri animali, e cioè la ragione. I desideri dunque, estranei, li chiama Aristotele, estranei rispetto all'attività teoretica, costituiscono un ostacolo alla perfetta felicità. L'uomo, perfettamente felice dunque, non è soltanto il filosofo in quanto egli si dedica all'attività di ricerca, all'attività del pensiero, all'attività scientifica, al senso lato, ma è il filosofo in quanto egli è anche virtuoso, cioè in quanto i suoi desideri sono moderati, tali cioè da non disturbarlo, da non ostacolarlo in questa sua attività scientifica. La virtù dunque è inscindibilmente legata all'attività teoretica, cioè il filosofo, lo scienziato, diremo oggi, per poter godere appieno della sua attività, per potersi dedicare con piena efficacia e con piena soddisfazione alla sua attività, attività non deve soltanto avere i mezzi necessari per vivere dignitosamente, ma deve anche avere desideri, voglie, impulsi moderati al punto tale da non disturbarlo in questa attività superiore. E a questo proposito trovo interessante il discorso che Aristotele fa nell'Etica Nicomachea, nel settimo libro in particolare, ma poi il discorso viene ripreso anche in altre sezioni di altri libri, la distinzione che egli fa tra l'intemperanza e l'incontinenza. L'intemperanza è per Aristotele un vizio, e la virtù corrispondente è naturalmente la temperanza, la soffroscine, mentre l'incontinenza non è un vizio per Aristotele, ma potremmo dire un po' un destino sfortunato che incombe su individui, peraltro, di buona volontà. L'intemperanza è un vizio perché l'intemperante sceglie volontariamente è in mente di abbandonarsi a piaceri eccessivi pur non avendo dei desideri eccessivi. Cioè l'intemperante si in qualche modo allontana volontariamente dal compito più proprio dell'uomo, che è quello appunto dell'attività teoretica, compito che gli consente, come ho detto poco fa, di raggiungere la felicità perfetta, quindi l'attività contemplativa potremmo anche dire, se ne allontana volontariamente perché ritiene che sia meglio perseguire un altro tipo di piacere, altri piaceri che sono estranei all'attività del pensiero, all'attività razionale, che sono piaceri, desideri legati alle funzioni inferiori dell'anima e cioè alla funzione nutritiva, il mangiare e il bere in maniera eccessiva e la funzione e l'attività sessuale. Quindi l'oggetto su cui si esercita come dire, la scelta dell'intemperante dell'intemperante è il cibo e il sesso, mangiare, il bere e l'attività sessuale. L'intemperante appunto è un vizioso e quindi è degno di biasimo perché gli trascura l'attività più propria dell'uomo e sceglie volontariamente gli eccessi. ricordiamoci che per Aristotele la virtù consiste nel giusto mezzo tra un eccesso e un difetto e quindi se c'è una misura del mangiare, c'è una misura del bere, c'è una giusta misura dell'attività sessuale, coloro che eccedono in questi piaceri o anche coloro che eccedono per difetto diciamo così non sono virtuosi. La virtù sta nel mezzo. L'intemperante sceglie di eccedere e dunque è un vizioso e dunque è per questo degno di biasimo. Ora è diverso il discorso che Aristotele fa per l'incontinente e gli dice che nonostante che l'incontinente abbia gli stessi oggetti del desiderio dell'intemperante, quindi nonostante che l'incontinente sia tale rispetto agli stessi piaceri dell'intemperante, cioè il piaceri del mangiare, del bere, del sesso, tuttavia l'incontinente non è degno di biasimo perché egli in qualche modo vorrebbe astenersi dall'eccesso rispetto a questi piaceri ma non non ne ha la forza o meglio potremmo dire che i suoi desideri riguardo al mangiare, al bere, all'attività sessuale sono talmente forti, sono talmente potenti che egli non sa regolarsi, non sa darsi una misura nonostante che capisca che occorre darsi una misura. Quindi l'incontinente non sceglie deliberatamente come fa l'intemperante di eccedere in questi piaceri ma lo fa in un certo senso suo malgrado è per questo che Aristotele lo guarda con un occhio più indulgente dice non è degno di biasimo tanto più che rispetto all'intemperante i desideri degli incontinenti sono molto più forti forti al punto di essere irresistibili al punto tale da travalicare in un certo senso la stessa ragione che dice chiaramente all'incontinente che dovrebbe invece astemersene l'incontinente quindi diciamo così capisce che cosa è il bene ma non sa astenersi dal compiere il male l'intemperante capisce che cos'è il bene ma volontariamente sceglie di compiere il male in un certo senso cioè sceglie di darsi a quegli eccessi che appunto l'incontinente invece riconosce come eccessi riconosce come cose da cui dovrebbe astenersi gli effetti dell'incontinenza e dell'intemperanza rispetto all'attività teoretica sono notorie gli stessi in entrambi i casi queste figure non potranno realizzare l'ergon diciamo così la funzione specifica dell'uomo cioè la ragione non la potranno realizzare perfettamente e quindi dalla prospettiva di Aristotele non potranno raggiungere quella felicità perfetta che consiste appunto nell'esercizio senza ostacoli del pensiero nella ricerca filosofica filosofica grazie a tutti grazie a tutti